Una flash confronto review di quelle che sono state le ultime SBC del Foodbird Usciteci, tengo però a portarvi qui quelle che sono le mie impressioni Visto che mi avete fatto un botto di domande in live Quindi ci andiamo a togliere qualche dubbio su queste cartine Mettetevi comodi perché come al solito sarà un'analisi bella dettagliata E abbastanza lunghetta Passiamo subito sul primo di questi giocatori che ci attende Ed è il buon Eric Beghi Insomma una leggenda questa di food per i più veterani Se lo ricorderanno su FIFA 18 in particolare Era praticamente rottissimo come giocatore Vediamo che c'ha 3 di skill e 5 di piede debole Che insomma magari per un difensore comunque aiuta in termini di impostazione a non sbagliare i passaggi È un metro e 86 quindi insomma è un giocatore di un'altezza più che soddisfacente Per poter fare il difensore centrale Ha in difesa alto e in attacco medio normale per quanto riguarda il wall crate Ha un body type high average Quindi è alto e praticamente non secchissimo Però è abbastanza snello sotto questo punto di vista Non ha un body type unico Andando a guardare le statistiche La prima cosa che mi salta all'occhio è quel parametro di velocità Che sulla carta dice 82 ma in realtà è molto fake Perché vediamo un 85 di sprint speed e un 79 di accelerazione Quindi in realtà si bilancia Quel 79 di accelerazione però per me per un difensore è grave Perché deve essere rapido anche sul primo passo per cercare subito di star dietro all'avversario Cosa che invece magari potrebbe cedere bei lì sul primo passo Per poi recuperare con le lunghe leve l'85 di velocità un po' più sul lungo Poi c'ha un buon passaggio corto lungo totalmente da rivedere Parametri di agilità insomma che sono un po' così e così Però comunque per un difensore sono buoni In particolare l'82 di reattività mi interessa parecchio Ha anche 87 di freddezza Statistiche difensive che sono tutte quante al top 88 di intercettazione 87 di testa 85 di mentalità difensiva 88 di contrasto in piedi 89 di scivolata Per quanto riguarda invece le stats di fisico Abbiamo 86 di salto 83 di resistenza 89 di forza e 89 di aggressività Quindi vuol dire che comunque A livello di giocatore che si attacca all'avversario Con 89 di aggressività ci siamo E con 89 di forza dovrebbe anche tenere botta Su quelli che sono i diversi Insomma contrasti che gli possono capitare O spallate Con gli attaccanti avversari Quello che però mi lascia un pochino così interdetto È il prezzo Perché parliamo di un giocatore che costa praticamente 250k Facendo una media tra PS e Xbox 250k fondamentalmente di non scambiabili O comunque di carte che dovete voi andare a riciclare Ok? E qua c'è il rischio di un giocatore che magari è inferiore Rispetto a quelli che sono altri suoi competitor In Premier League Andiamo a vedere perché ho preparato proprio Una comparazione tra i tre diciamo difensori principali E questi sono Joe Gomez e James Non fatevi ingannare dalle in-game stats Perché insomma per quanto riguarda le in-game stats Poco ci interessa Perché vedete che qua praticamente lui ha 52 di tiro E 32 di tiro C'ha Gomez E quindi praticamente tutte quelle stats saranno lì il grosso Quello che mi interessa però è che Gomez costa 330k È 390 su PS Quindi facendo una media costa più o meno 350k Quindi semplicemente un 100k in più Parliamo di un giocatore che è più accessibile Perché lo potete vendere e ricomprare Nel caso in cui non vi piace In qualsiasi momento E parliamo di un giocatore che ha anche un pochino in più di accelerazione Ed è molto più rapido Quindi sotto questo punto di vista Gomez Io già lo vado a preferire a un Bailey Nonostante Bailey magari vi dà anche la possibilità di ibridarvi un Bruno Fernandes Io vado a preferire un giocatore come Gomez E non vi dico proprio che preferisco James Che facendo una media tra PSX Boss Diciamo che costa sui 4,50 Quindi solamente 200k 200k sono diciamo due premi di Weekend League e Rivals Prendendo i crediti È tutto sbilanciato a favore di James ovviamente Quindi onestamente andare a sacrificare tutta una serie di carte su sto Bailey Secondo me non ha un grossissimo senso sotto sto punto di vista Preferirei piuttosto andare a prendere uno di questi giocatori qua Che poi posso rivendere qualsiasi momento Voglio cambiare squadra Voglio provare altro eccetera eccetera Quindi Quello che vi posso dire è che è sicuramente un giocatore interessante Occhio a comunque velocità e accelerazione che mi preoccupano E occhio perché si può prendere altro Che però lo ritrovate sul mercato Piuttosto che dover prendere un giocatore non scambiabile Che vi rimane sul groppone nel caso in cui non vi piaccia Perché ho sentito pareri contrastanti C'è chi lo ama e chi lo odia Per quanto riguarda un'altra bella cartina Abbiamo poi sto Senjust Senjust Difensore olandese del Mainz Quindi in Germania Bundesliga 5 di skill e 3 di piede debole Un po' inutile 5 skill per il DC 1,84 Quindi anche lui insomma Una certa presenza fisica Un po' di type lean Quindi snello Ha 84 di accelerazione 91 di velocità scatto Quindi praticamente parametri da terzino Per quanto riguarda Senjust Ha anche degli ottimi passaggi Sia il corto che il lungo Veramente tanta roba Ha 90 di agilità E 82 di reaction Quindi veramente tantissima roba Sotto sto punto di vista Statistiche difensive Che sono top Tranne la precisione di testa E la scivolata Che però insomma Non è che ci importano più di tanto L'unico parametro Che stona un po' su sta carta È il 79 di aggressività Perché avendo un po' più di aggressività Sicuramente sarebbe stato Ancora più devastante Secondo me Il prezzo giustifica i mezzi Insomma Perché questa è una carta Che ti dà anche la possibilità Di poter andare a linkare Il cliver di turno Che ormai praticamente Tutti quanti ci avevano Quindi sicuramente Questo qua È un ottimo giocatore Andiamoci a vedere Quelli che sono Le comparazioni Con giocatori Che magari potete avere Che mi avete chiesto Già anche in live O se mi avete detto Io c'ho Boateng Che devo fare Lo sbloccare Sanjust No C'ho Pamecano Che devo fare Lo devo sbloccare Sì o no La risposta è sì In entrambi i casi Perché per quanto riguarda Boateng Parliamo di una carta Estremamente più lenta Rispetto a Sanjust Ha 73 di accelerazione 86 di sprint speed Quindi praticamente Un tronco Non ha l'agilità Che c'ha sto Sanjust Perché come potete vedere 90 è un parametro Fuori dal normale Stessa cosa Per me È anche molto meglio Di questo Pamecano Che per quanto riguarda La velocità È addirittura più veloce Ma di un solo punto Mentre c'è di un'accelerazione Addirittura di 9 punti Quindi non fatevi Trarre in inganno Da questo 84 Che secondo voi Non è tanto lontano Dall'88 di Sanjust Quando invece La differenza La sentite parecchio E inoltre Un'altra questione Relativa a Upamecano Che mi preoccupa E mi ha sempre preoccupato È il 67 di stamina Che qua in questo caso Pende tutto a favore Di Sanjust Che invece ha 87 Quindi se io Dovesse andare a scegliere Tra questi tre Andrei tutta la vita A prendere il buon Sanjust Che con i non scambiabili Riuscite sicuramente Ad abbassare il prezzo E soprattutto Fate un investimento sicuro Perché è una grandissima carta E vi ripeto Vi dà la possibilità Di sbloccare anche Dei link interessanti Con Klyber Se ce l'avete Boateng Se l'avete fatto Cestinatelo Perché questo è 100x Upamecano Se ce l'avete Cestinatelo O se lo volete comprare Non compratelo Perché per me Questo è più forte Quindi in Bundesliga E tanta roba Secondo me È anche meglio Di Closterman Attualmente Se la batte Un po' Koakanji Per quanto riguarda Invece L'ultimo giocatore Che è uscito Abbiamo questo Kondogbia Un altro mostriciattolo sacro Per chi si ricorderà 5 di skill E 3 di piede debole È un metro e 88 Crate E ha un body type Pag iver Quindi alto e secco Ma non snellissimo Parametro di velocità Che diciamo È un po' così E cos'ha Quindi 80 e 80 Discrete statistiche di tiro Prenalizzate dalla finalizzazione Tanta roba ai passaggi 81 di agilità 80 di equilibrio 92 di reattività 93 di freddezza Tanta roba Alle statistiche difensive Veramente al top Anche quelle che sono Le statistiche di fisico In particolare Il 91 di aggressività Il 99 di forza Sono veramente lodevoli Per una carta di questo tipo E poi va valutato il prezzo Fondamentale Perché costa praticamente 2 lire Sto condobbià Costa 220k Ok Quindi Alla fine Io Questo investimento Lo potrei anche andare a fare Fossi in voi Quello di condobbià Anche perché Se lo andiamo a comparare Con quelle che sono Queste altre carte qui Si Abbiamo un iorente Che per me Probabilmente Rapporto qualità Prezzo Il superiore Ok Però parte da una situazione Problematica Di esterno destro E quindi va switchato Ioren Valverde invece È una carta Anche qua Molto interessante Che costa meno È il più rapido Insieme a Iorente Però Cede parecchio Il passo Per quanto riguarda Le statistiche Sia di difesa Che di fisico Ma anche di dribbling E passaggio Quindi per quanto riguarda Quelle che sono Le mie preferenze Tra questi tre Io vi dico Iorente al primo posto Poi ci piazzo Condobbià E poi ci piazzo Valverde Quindi diciamo Che se avete una liga Preferite sempre Una carta di questo tipo Questo condobbià Andatevelo a sbloccare Solamente nel caso In cui abbiate Una serie di non scambiabili Da riciclare O avete solamente Una full liga E quindi non vi interessano Quelli che sono Discorsi di ibridabilità Eccetera eccetera Perché chiaramente Se io eronte Essendo spagnolo Vi dà molti più sbocchi Nonostante il ruolo Non sia dei migliori Ma sicuramente È meglio rispetto A un condobbià Che è della Repubblica centro-afigrana Del Non so questo In realtà che roba Sia se il Mali O non ricordo bene Qual è la nostra realtà di condobbià Però vi ripeto Il prezzo è interessante E la carta Statisticamente Non sembra malissimo Tuttavia Rimane quello che è il problema Vi ripeto che magari Palla al piede Potrebbe sembrarvi un po' tronco E questo non è Un qualcosa Da sottovalutare Quindi raga Per quanto riguarda Ste tre carte Fondamentalmente È tutto Ci siamo fatti Una panoramica rapida Anche in base a quelle Che sono Diciamo I loro competitor Come al solito Fatemi sapere Se voi avete già sbloccato E provato qualcuna Di queste carte Se sì come sta andando Ovviamente nei commenti Vi ricordo di lasciare Un bel like Iscrivetevi al canale In descrizione trovate Tutte le info Per le live giornaliere Sulla piattaforma viola Io vi auguro Una buona giornata Ragazzi Un saluto Nea Riberoski Ciao ciao